Quando ho deciso di fare una puntata sugli effetti del condividere il recente passato affettivo con un nuovo partner, mi è balenato subito nella mente l'incipit potentissimo di un romanzo che lessi anni fa, scritto da Leslie Paul Hartley e pubblicato per la prima volta nel 1953. Il libro si apriva con queste parole Il passato è una terra straniera, fanno le cose in modo diverso laggiù. Non so quanti anni sono passati dal giorno in cui stavo per iniziare a leggere Messaggero d'amore, ma quella frase mi ha lasciato un segno che si è impresso nella mia memoria, è diventato una moneta preziosa che finalmente oggi ho potuto spendere. Voglio affrontare un argomento, infatti, che ha molto a che fare con il passato di ognuno di noi e con il fatto che, spesso senza valutarne bene l'utilità, tendiamo a condividere un po' troppo con un partner che arriva dopo che si è appena chiusa una storia in cui un precedente partner a cui eravamo legati è diventato ex. Nelle mie sessioni di coaching è una situazione che ho visto più volte e che in quasi tutti i casi è stata proprio l'innesco di una serie di incomprensioni che poi si sono trascinate all'interno della coppia senza che i due se ne rendessero minimamente conto. Per alcune persone può essere abbastanza normale, dopo il naufragio di una relazione importante, magari durata anni, il desiderio di voler condividere il passato con il nuovo partner. E spesso è una cosa che fanno entrambi. Nella smania di condivisione che nasce da un nuovo innamoramento e dalla presunzione che la nuova persona sia un'alleata a prescindere, chi si confida profondamente lo fa con le migliori intenzioni e con la massima fiducia, ma non fa i conti, a mio avviso, con la sensibilità del nuovo partner e con le sue vulnerabilità. Il nuovo partner, essendo appunto nuovo, è una persona che ancora non si conosce bene e non è detto che, ascoltando certi reportage, riesca a uscirne perfettamente integro, grazie a una struttura caratteriale abbastanza forte, perché in molte persone si innesca una sorta di confronto relativo all'importanza personale. Può sembrare banale, ma se, come ho visto fare da molti, i primi incontri diventano degli sfogatoi, nei quali uno dei due riversa sull'altro i problemi, i rancori e le incomprensioni che vive o che ha vissuto con l'ex, può capitare che il nuovo partner percepisca un certo interesse ancora vivo in lui e che si inneschino pensieri non utili a un sano percorso di coppia. Il nuovo partner, mosso a sua volta dalle migliori intenzioni e forse anche da una certa curiosità, presta il suo orecchio e spesso anche la spalla su cui piangere. Ma se all'inizio rimane nel ruolo di ascoltatore, in seguito può cominciare a farsi delle domande e a vedere i conti non tornare. Per esempio, una persona adulta e matura, quando ascolta una sola campana in assenza di possibili confronti con l'ex del partner di cui sente dire peste e corna, può cominciare a dubitare che la verità sia contaminata o addirittura falsata. Ma non solo. Se i momenti di condivisione vertono quasi tutti su quell'argomento, può farsi largo anche la sensazione che il partner sia ancora molto coinvolto dalla relazione precedente. Ho seguito una donna che venne da me per riuscire a superare la fine di una relazione che era nata da un'amicizia molto forte ed è un caso esemplare per questa puntata. Userò Marco e Luisa come nomi di fantasia per garantire la privacy, ma voglio raccontarti come queste dinamiche iniziali siano state poi un bastone tra le ruote, clamoroso nel loro percorso. Si erano conosciuti ai tempi delle scuole superiori ed erano stati molto amici per anni. Poi, come accade spesso, alla fine del liceo si erano persi di vista e ognuno dei due aveva preso una direzione di vita. Marco si era sposato e aveva avuto tre figli. Luisa non si era sposata, ma di figli. Ne aveva avuti quattro, con lo stesso uomo, per poi separarsi da lui e crescerli in pratica da sola. Per caso si sono ritrovati partecipando allo stesso corso intorno ai 40 anni, proprio nel momento in cui Marco stava vivendo dei gravissimi problemi di relazione con la moglie e stava decidendo di lasciarla. Questo nuovo incontro, dopo la gioia iniziale dell'essersi ritrovati, finì con Marco che, in onore della vecchia amicizia, confidò a Luisa quello che stava passando e trovò in lei una speciale ascoltatrice. Iniziarono a frequentarsi, sempre in amicizia, ma di nascosto dalla moglie di Marco, dal momento che uno dei problemi più gravi nella loro coppia era proprio la sua gelosia morbosa verso di lui, che lo aveva relegato negli anni a una vita casa-lavoro-casa, sempre sotto il suo controllo. Per non avere ulteriori problemi, lui aveva deciso di inventarsi ogni volta impegni lavorativi. Quando voleva godersi l'amicizia ritrovata con Luisa, che era così speciale nel lasciarlo sfogare. Dopo qualche mese capirono che la loro intesa era diventata qualcosa di più di una semplice amicizia e si diedero il primo bacio, trasformando la loro relazione amicale in una storia d'amore e di passione, ma sempre in clandestinità. Gli argomenti tra loro continuavano a essere soprattutto gli sfoghi di Marco, su quanto la moglie fosse negativa e gli stesse rovinando la vita. Mentre in Luisa iniziò a farsi largo la sensazione di essere relegata nel ruolo di amante segreta. Non potevano fare una passeggiata in città per il rischio di sguardi indiscreti. Marco metteva sempre al primo posto la famiglia per evitare problemi. Rifiutava le chiamate di Luisa quando era con la moglie e scompariva nei fine settimana senza nemmeno rispondere ai messaggi. Luisa trascorreva weekend, vacanze estive e natalizie sempre da sola, col pensiero che Marco invece era in viaggio con la famiglia. I loro momenti insieme erano sempre rubati, segregati nelle quattro mura della casa di Luisa ed era sempre Marco a decidere quando, come e se incontrarsi. Lei chiedeva sempre più spesso a Marco quando avesse intenzione di parlare seriamente con la moglie per poter finalmente vivere una relazione alla luce del sole. Marco usava l'alibi di una moglie isterica e pericolosa per continuare a rimandare, dicendo che stava aspettando il momento giusto e che Luisa avrebbe dovuto avere pazienza se lo amava davvero. Senza entrare in ulteriori dettagli, andiamo al punto. Lo sconforto di Luisa la portò alla fine ad avere atteggiamenti accusatori molto violenti nei confronti di Marco e a usare tutto quello che lui le aveva raccontato per insinuare che forse sua moglie non era poi così isterica e che lui era un uomo senza palle. Di rimando, lui la accusava di non averlo mai amato e di essere una bambina capricciosa e immatura. Uno sfacelo totale. La fiducia di entrambi evaporò in pochi giorni e alla fine si lasciarono, devastandosi di insulti. Nella storia di Marco e Luisa l'iniziale troppa condivisione dei problemi da parte di Marco è nata a causa dell'amicizia e probabilmente né lui né Luisa si sarebbero immaginati di potersi baciare un giorno. In altri casi, questo grado di condivisione totale del proprio passato e della precedente relazione avviene tra due persone che si sono già messe insieme ma il risultato può essere comunque deleterio a lungo termine. Parlare troppo spesso dell'ex entrando nei particolari intimi e nelle dinamiche malate della vecchia relazione genera una sorta di fantasma nella mente dell'altro e da che mondo è mondo i fantasmi fanno paura a tutti. Con un nuovo partner credo sia molto più sano vivere il presente e progettare un futuro insieme lasciando fantasmi e scheletri nel proprio armadio personale e condividendo sul passato solo le cose che non mettano in alcun modo in crisi la sicurezza del partner. Non è scritto su nessun libro che amare significhi condividere ogni cosa del proprio passato né ha senso pensare che omettere certe cose sia un sintomo di non amore. L'amore ha altri modi per dimostrarsi è una città in cui la piazza principale si chiama rispetto il corso più importante si chiama presenza e da lì si diramano vie via comprensione via alleanza via umorismo via complicità e altre viuzze una più bella dell'altra. Grazie a tutti